191 persone attualmente contagiate. La soglia psicologica dei 200 contagi si riavvicina nuovamente a Civitavecchia, che negli ultimi giorni, anche in conseguenza del cluster acceso al locale Mylord, ha visto crescere esponenzialmente il numero delle persone che si sono ammalate. Ieri nel quotidiano report l'assessorato regionale alla sanità e la ASL Roma 4 hanno certificato 22 nuovi contagi compensati solo in parte dalle guarigioni, che sono state 15. Inutile dire che la situazione è abbastanza preoccupante, anche perché si è alla vigilia della settimanale decisione dell'Istituto Superiore di Sanità sulle zone da assegnare e questa volta il rischio che il Lazio torni ad essere arancione è quanto mai concreto. E c'è preoccupazione tra i Civitavecchiesi per gli effetti della terza ondata del Covid-19, soprattutto per l'effetto della cosiddetta variante inglese. Particolarmente è censurato l'atteggiamento di quanti contravvengono alle regole riguardo il distanziamento, ma sentiamo alcune impressioni raccolte in giro per la città. Cosa ne pensa della terza ondata? Non lo so, sinceramente non lo so. Come si fa a stabilirlo? Vediamo i tecnici, se ci indovinano stavolta, non lo so. Che pensiero si è fatto di questa situazione? Il cambio di governo, adesso i contagi che si stanno rinalzando? No, no. Per Draghi, almeno per Draghi è positivo. Speriamo bene che riesca a fare quello di cui l'Italia ha bisogno. Certo, in questo momento servono i vaccini. Se riesce ad averli, magari anche non ufficialmente come l'Europa, magari quelli di Putin, Sputnik, non so. Secondo lei quando non usciremo da questa situazione? Non lo so, credo sarà molto difficile uscirne. E speriamo che non venga perché altrimenti bisognerà rimanere a casa. Però se evitiamo contagi e altro, la possiamo evitare naturalmente. Quindi dobbiamo rispettare le regole, quindi stare a casa il più possibile, sempre se non dobbiamo andare al lavoro. E vediamo. Noi studenti, esempio, dovremmo stare più a casa, perché pure anche per rispetto per i nostri genitori o per i nostri parenti, che un po' più vecchi o quello che è. Sei a favore delle aperture o preferisci che ci siano delle chiusure? Dei locali, dei ristoranti, del movimento delle persone in genere? Si può aprire, si può aprire affinché si rispettino le regole. Quindi se i ristoratori rispettano le regole, allora si vive più seneramente. Però bisogna rispettare le regole, sia chi ci va a pranzo, chi ci lavora. Così se la comunità funziona bene, la vita può proseguire. Tutte prendiamo le precauzioni, mascherina, distanziamento, facciamo come la Sardegna, zona bianca. Invece se andiamo avanti così, vicino, attaccati, con una stagione di oggi, è un macello. Non è che magari queste giornate quasi primaverili possano cominciare qualcuno a non rispettare le regole, quindi ci troviamo in difficoltà poi? Sì, appunto per colpa di questi ragazzi che trovano queste belle giornate, siamo molto in difficoltà. Allora dobbiamo prendere questi provvedimenti. Per me se facevano un mese, tutte le città, zona rossa, stavamo ancora meglio. Comunque ad andare così, speriamo che finisce presto. Ci fanno i vaccini e tutto va bene. Anche se poi le persone che lavorano non sono state molto d'accordo, perché ci sono ritardi di storie, di sostegno per chi lavora. Infatti proprio per loro c'è stata molta difficoltà ad andare avanti. Praticamente tutti i pediatri di libera scelta che operano nei vari comuni dell'Asdroma 4 sono stati vaccinati. Stando ai dati forniti dall'azienda sanitaria, infatti, ben il 99% dei medici che assistono i bambini si sono sottoposti alla vaccinazione. Diversi i numeri per quanto riguarda invece i medici di famiglia e il personale sanitario della stessa Asdroma 4. A oltre due mesi dall'inizio della campagna vaccinale, la Asdroma 4 tira le prime somme del lavoro condotto all'interno del territorio di competenza. Ieri gli uffici di Via Terme di Traiano hanno infatti fornito i primi dati ufficiali della campagna, suddivisi per le diverse categorie interessate. Su 323.595 residenti nei comuni che fanno parte dell'azienda sanitaria, sono state finora vaccinate 23.682 persone, pari al 7,3% del totale. Diversa la risposta fornita dalle diverse categorie che hanno avuto la possibilità di vedersi somministrati i farmaci. Al momento sono infatti stati vaccinati 732 rappresentanti delle forze dell'ordine, 1551 rappresentanti del personale scolastico e ben 5.449 operatori sanitari. Gli over 80, ovvero le persone che hanno compiuto e superato gli 80 anni attualmente vaccinati, sono oltre 6.000, per la precisione 6.220. Mentre sono 348 le persone non autosufficienti che hanno potuto avere la somministrazione del vaccino presso il proprio domicilio. Particolarmente interessanti i numeri che riguardano il personale sanitario della ASL Roma 4. Alla data del 2 marzo, l'86% dei medici dipendenti della ASL Roma 4 era stato vaccinato. Leggermente più bassa la percentuale dei paramedici alle dipendenze dell'azienda sanitaria che hanno ricevuto il vaccino nella misura dell'81%. Interessanti anche i riscontri che riguardano i medici di libera professione. Tra i cosiddetti medici di famiglia, il 75% ha ricevuto la somministrazione del vaccino. Boom di vaccinati invece tra i pediatri di libera scelta. Praticamente tutti i medici dei bambini hanno accettato di vaccinarsi, per una percentuale del 99%. Intanto domani parte la prenotazione per i 79 anni e i 78 anni, ovvero per i nati negli anni 1942-1943. Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria. Gli interessati potranno prenotarsi attraverso il sito di salute Lazio. Insomma, la campagna vaccinale va avanti, ma i numeri non sono ancora quelli che sarebbero necessarie di fronte alla diffusione del contagio. Dopo due giorni di incoraggiante discesa, torna a risalire il tasso di contagiosità nei tamponi rapidi effettuati al centro diagnostico Buonarroti. Ieri sono stati eseguiti 237 controlli, per i quali sono state riscontrate 11 positività con un tasso specifico pari al 6,83%. Dei positivi riscontrati, 5 sono risultati residenti a Civitavecchia, 5 a Santa Marinella e 1 fuori del distretto 1 della ASL. Il numero complessivo di test effettuati è salito a 18.507 e le positività riscontrate sono finora 977, pari al 5,28%. Il tasso di positività complessivo di ieri è stato pari al 4,64%. Il numero di 11 casi giornalieri è superiore alla media degli ultimi 30 giorni di 5,40 e a quella della settimana precedente di 8,16. Potrebbe essere arrivata una nuova svolta nell'annosa e controversa vicenda degli usi civici. La regione Lazio ha infatti diffidato l'Università Agraria di Civitavecchia e nominato un nuovo perito demaniale che dovrà accertare la congruità delle recenti sentenze del commissario agli usi civici. Una decisione che viene salutata con grande soddisfazione sia dal PD che da Fratelli d'Italia, protagonisti di un piccolo presidio congiunto sotto i locali dell'ente di Viale Baccelli. Qualcosa si muove sull'annoso fronte degli usi civici. Ne danno notizia il segretario cittadino del PD Stefano Giannini, per il quale finalmente la regione Lazio ha deciso di muoversi in maniera risolutiva, e i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Simona Galizia e Vincenzo Palombo. Giannini informa che sarà redatta una ricognizione da parte di un perito demaniale nominato dalla regione che dovrebbe valorizzare le nuove documentazioni venute alla luce nel corso degli anni. Secondo il segretario Dem, inoltre, le ultime sentenze che stanno progressivamente liberando diversi terreni dai vincoli confermano la giustezza della strada intrapresa e le scelte sbagliate dell'Università Agraria. Proprio ieri, conclude, è giunta la notizia di una diffida, sempre da parte della regione, rivolta ai vertici dell'agraria, motivo per cui ho incontrato Simona Galizia e Vincenzo Palombo, proprio fuori la sede dell'ente, ai quali va rivolto un ringraziamento per il contributo espresso nella ricerca della soluzione. Nella consapevolezza che su tematiche di pubblica utilità gli steccati ideologici devono essere messi da parte per il bene dei cittadini, Giannini ringrazia il Comitato Usi Civici, Emanuele Larosa del Movimento 5 Stelle, Vittorio Petrelli e Gino De Paulis. Per Fratelli d'Italia, la diffida della regione all'agraria rappresenta un ulteriore passo avanti nella vicenda degli usi civici, dopo la svolta propriziata dai propri rappresentanti alcuni giorni fa. Secondo i meloniani, la regione farà tornare alla normalità una situazione ingiusta e vessatoria, che si è protratta per troppi anni e se ci sono state responsabilità nella gestione dell'agraria è giusto che sia fatta luce. Galizia e Palombo dichiarano di attendere la nomina del perito e anche loro ringraziano i rappresentanti delle altre forze politiche di schieramenti diversi che si sono impegnate per sposare la causa dei cittadini. C'è anche un po' di Civitavecchia al Teatro Ariston di Sanremo, il centro della cultura italiana, in questa settimana dedicata alla 71esima edizione del festival. Per il terzo anno consecutivo, infatti, fa parte dell'orchestra la violinista Maria Letizia Beneduce, ma dell'orchestra, come secondo chitarrista, fa parte anche Massimiliano Rosati, musicista Civitavecchiese che ha fatto parte, tra gli altri, dei gruppi di Fiorella Mannoia e di Massimo Ranieri. E stasera, a quanto pare, un terzo Civitavecchiese dovrebbe essere sul palcoscenico dell'Ariston, come accompagnatore di Max Gazze. Ad un mese e mezzo dalla difesa del titolo mondiale dei pesi superpiuma a IBO, arrivano date al luogo dell'atteso incontro di Michael Magnesi. Il match che vedrà contrapposto Lone Wolf al sudafricano Canil Bulanà si svolgerà venerdì 16 aprile al palazzetto Valle Martella di Zagarolo. L'evento sarà organizzato dall'AMB Events di Alessandra Branco e dalla BBT di Davide Buccioni. Dopo la pausa forzata per l'emergenza Covid, nelle ultime settimane la Lega Navale è tornata a vestirsi d'azzurro, presso la roccaforte storica del windsurf locale, ma anche italiano, si stanno svolgendo alcuni collegiali delle nazionali giovanili, molto importanti perché i ragazzi stanno prendendo confidenza con la nuova tavola, che dopo Tokyo 2020 sostituirà l'RXX. A dirigere il tutto un tecnico Civitavecchiese che ha fatto le fortune del movimento tricolore, ovvero Adriano Stella. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it